Hanno chiesto e ottenuto, rito abbreviato, 5 dei principali imputati coinvolti nell'inchiesta che aveva portato all'arresto di 15 persone, tra cui 6 poliziotti della Questura di Piacenza, accusati a vario titolo di reati per droga e sfruttamento della prostituzione. 4 di questi agenti e il pensionato, ritenuto perno di un fiorente giro di spaccio in città, saranno giudicati a partire dal 5 dicembre, con rito abbreviato. Si tratta dei poliziotti Paolo Bozzini, Luca Fornasari, Luciano Pellilli e Paolo Cattivelli e di Giorgio Cavacciuti. Già stralciate da tempo invece le posizioni degli altri due agenti, Claudio Anastasio, ha scelto rito abbreviato, ed Enrico Milanesi. Di fronte al GIP Gianandrea Bussi sono comparsi questa mattina alcuni degli stranieri coinvolti dell'indagine, scegliendo invece la strada del patteggiamento.